Lorenzo Sistino, amministratore delegato Fiat Automobile. Per il quarto anno Fiat sponsorizza il Yamaha Team. Come giudica l'iniziativa? Può fare un bilancio di questi tre anni? Questa è sicuramente un'iniziativa positiva, soprattutto per un paio di fatti. Il primo è che sicuramente abbiamo accresciuto la nostra notorietà, soprattutto all'estero, visto che ormai la MotoGP è un fatto mondiale, un fatto globale. E la seconda cosa è che di nuovo abbiamo fatto un qualche cosa di diverso, out of the box, come nella nostra natura, nel nostro DNA della Fiat. Infatti siamo stati i primi costruttori a sponsorizzare un team della MotoGP. Quindi direi che di queste due cose possiamo farne un bilancio positivo. Tripla corona MotoGP nel 2008 e nel 2009. Quale delle due le ha dato maggiori emozioni e soddisfazioni? Sono state due straordinarie annate dove la Yamaha Team ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Credo che il 2009 sia stato poi ancora più positivo, visto che dal punto di vista della MotoGP siamo riusciti ad avere sia il primo che il secondo posto, con Valentino e con Orghe Lorenzo. Poi anche perché il 2009 è stato anche un anno straordinario. Per la Fiat abbiamo raggiunto il maggior volume di vendite degli ultimi otto anni, sia come volume assoluto, sia come quota, il 7,1% in Europa. E questo sicuramente è un motivo di orgoglio per noi. Quali sono i valori che condividono Fiat e Yamaha? Direi che c'è più di un valore che accomuna la nostra azienda alla Yamaha. Innanzitutto l'eccellenza nella tecnologia, loro sono i primi nel MotoGP e lo sono ormai da diverso tempo e noi cerchiamo di fare auto state of the art sia dal punto tecnologico che soprattutto dal punto di vista del rispetto del malmiente. E poi la voglia di vincere, la voglia di essere i primi, la voglia di non fermarsi mai e credo che questo sia un altro valore che abbiamo sicuramente in comune fra la nostra azienda e la Yamaha Team. Valentino Rossi e Fiat, un connubio che funziona. Perché secondo lei? Valentino è sicuramente oltre che un grandissimo sportivo, un grandissimo campione e anche un grandissimo personaggio con una grandissima gioia, voglia di vivere e credo che sia uno dei migliori ambasciatori per la Fiat nel mondo soprattutto per quanto riguarda il pubblico più giovane. Oltre a essere il campione della Yamaha Team è anche italiano e noi siamo un costruttore di auto italiana e quindi direi che il connubio è perfetto.